Le senti come domandano realmente? Le realtà scarmigliate, feroci, le ombre che forgiammono insieme in questo immenso letto di distanze, stanche ormai di infinito, di tempo senza misura, di anonimato. Ferite da una grande nostalgia di materia, chiedono limiti, giorni, nomi. Non possono vivere più così, sono alle soglie della morte, delle ombre che è il nulla. Accorri, vieni con me, insieme. Cercheremo per loro un colore, una data, un petto, un sole che riposino in te. Sei tu la loro carne, si placherà la loro enorme ansia errante, mentre noi le stringiamo avidamente fra i nostri corpi, dove potranno trovare nutrimento e riposo. Si assopiranno, infine, nel nostro sonno abbracciato, abbracciante. E così, quando ci separeremo, nutrendoci solo di ombre, fra lontananze, essi avranno ormai ricordi, avranno un passato di carne ed ossa, il tempo vissuto dentro di noi. E il loro tormentato sonno di ombre sarà di nuovo il ritorno alla corporeità mortale. E sarà una rosa. Dove l'amore inventa il suo nuovo infinito.